Un nuovo patto per il lavoro dovesse ritoccare a me subito appena rieletto, perché ha dato grandi risultati in questi anni, ma soprattutto gli stati generali del commercio entro la fine del 2020, dove rivediamo la legge 41, ci sono nuove opportunità e nuove risorse a partire da quelle europee e un grande piano per la riqualificazione di un settore che va detto è stato il più colpito negli anni della crisi.